Ci verrà Riccardo ai testi di Barcellona? Ma allora, noi adesso dobbiamo discutere il budget perché... Ascolta, se tu hai... vieni in camion... Vieni in camion, va bene, ti metto nel cavone del camion... Un servizio che mi piacerebbe fare, sai quale che è? E questo poi magari ci penseremo, ne parleremo con scalera. A me è un servizio che mi è sempre piaciuto fare, fare una trasferta con i ragazzi che appunto portano le moto allestire i box, che tu ti comparti una settimana prima, e fare una trasferta dove tu racconti on the road, viaggio verso la superbike, e quello insomma è un bel racconto. Dentro, a dormire, ti fai una bella vita proprio, cioè un paio di giorni, una trasferta, la scegli nel camion, così proprio vivi, il weekend della superbike parte la settimana prima, cosa vuol dire prendere? Mettere le moto nel camion, arrivare, scaricare, allestire il box, montare. C'è tanto da raccontare. Io devo montare il box, io faccio il video. Se vuoi raccontare tutto e viverlo da dentro è... Devo davvero abato. Per forza. Fammi fare cose semplici, metto su, ti lo giulo stesso.